Il recupero e la riqualificazione dei luoghi abbandonati non riguarda soltanto le grandi aree dismesse. Tra Pavia e la provincia più in generale sono numerose le zone dimenticate e abitate dal degrado. Una segnalazione di un nostro telespettatore ci ha portato nel cuore del parco del Ticino, al confine tra il capoluogo e Travacossi-Comario. Dopo un breve tragitto su una strada sterrata siamo arrivati davanti a due edifici completamente abbandonati da anni. Una breve ricerca su internet ci ha permesso di identificare il luogo come Cascina Boscone Vecchio. Si tratta di un'abitazione e di un vecchio deposito agricolo. Sconosciuta in più questa zona è invece familiare a chi viene a passeggiare in aperta campagna come il nostro telespettatore che in forma anonima ha però voluto lanciare un allarme sulla sicurezza della zona. Facendo ogni tanto le mie passeggiate dalle parti del parco del Ticino, tra Pavia, via Milazzo e Travacò, abbiamo visto questi casolari qua che secondo me sono molto pericolosi, poi si vede che ci sono segni di passaggio, quindi voglio dire che qualcuno o qualche malintenzionato va, poi con i fatti di cronaca che si vedono in questi periodi, io direi che è molto pericoloso soprattutto per le donne e quindi direi di intervenire, soprattutto di abbatterli o metterli in sicurezza più che altro. Addentrandoci non senza difficoltà nella fitta vegetazione siamo riusciti ad avvicinarci ai due edifici, il passaggio di persone evidente come testimoniato dai rifiuti e dai graffiti sui muri. Le due strutture hanno però evidenti problemi di stabilità e sarebbe necessario intervenire, un luogo di degrado e di pericolo per chi frequenta la zona. Sembra che c'è addirittura che si vada anche a dormire, quindi secondo me sono cose da eliminare, adesso non so chi tocca ma che qualcuno faccia, che non ci sia la solita scusa non si sa chi tocca. Sì sì sì, tanti anni quindi c'è un po' di incuria, mancate che segnalazione dei cittadini che invito sempre comunque a segnalare le cose pericolanti, magari o attraverso voi o attraverso altri mezzi di informazione, comunque far sapere a chi di dovere intervenire. Dovrebbe essere chi di dovere anche controllare, visto che comunque è un parco del Ticino, dovrebbe ogni tanto passare, controllare e verificare le strutture che ci sono e essendo pericolanti di intervenire il più presto possibile. Ma non si tratta delle uniche strutture pericolanti in questa porzione di Parco del Ticino, frequentata da chi cerca un contatto con la natura per passeggiare o praticare dello sport. A poche centinaia di metri, alcuni mesi fa, avevamo sottolineato i problemi di un ponte abbandonato e pericolante in fondo via Milazzo, ma nessuno ha raccolto la segnalazione dei cittadini. Puoi parlare anche di quello che abbiamo fatto una segnalazione mesi fa di un ponte pericolante e ancora lì perché, come ci dicevo prima, non si sa chi deve intervenire, che si decidano e che intervengano. Non posso andare io a distruggere e buttare giù un ponte perché sennò mi arrestano. Quindi chi di dovere, che sia il governo, che sia la regione, che sia la provincia, il parco, il comune o chissà chi, la situazione è questa, intervenite per favore. Grazie.